Il Sessore Francesco Provesi ha la presentazione della Biennale del Merletto. Merletto tra passato, presente e futuro. Questo è un po' quello che ho detto nell'introduzione. Sì, siamo impegnati proprio in questo momento nell'allestimento della Biennale che sta vedendo coinvolte diverse persone sotto la direzione del Comitato per la Promozione del Merletto. In questo momento inaugureremo la Biennale internazionale il 6 ottobre e la Biennale durerà poi fino al giorno 20 di ottobre. Io ho scritto un pensiero che va a presentare questa Biennale individuando quelli che ritengo essere tre validi motivi per cui una tradizione, perché ormai è l'undicesima edizione, vale ancora la pena di essere proposta, vale la pena di essere sostenuta dall'amministrazione e da tanti sponsor, a partire dalla Cassa Rurale di Cantù e da tanti altri sponsor canturini che hanno contribuito e è ospitata nelle sedi comunali della Villa Calvi, della Corte San Rocco, altre sedi minori e la Scuola d'Arte, liceo artistico Melotti, che ospiterà una sezione ad hoc proprio sulla merletti storici della scuola dagli anni 30 agli anni 50. Allora, i tre validi motivi quali sono? Innanzitutto il dovere della memoria storica. Cioè il merletto ci testimonia un momento in cui l'artigianato di eccellenza nel settore delle arti applicate vedeva Cantù avere un primato indiscusso a livello internazionale. Questa memoria storica abbiamo il dovere di preservarla e di rimostrarla in modo che la bellezza che questi merletti veramente, come dire, in chi li guarda ci lasciano sia a disposizione di tutti e ancora. E allora sarà allestita una mostra storica in Villa Calvi, ci sarà la presenza di pezzi antichi e ci sarà la presenza di pezzi che vengono da paesi diversi, dal Belgio, dalla Francia, Svizzera, eccetera. Poi il presente. Il presente nel senso della attività che ancora oggi tante merlettaie fanno nella nostra città a livello amatoriale e a livello professionistico. È una nicchia di settore, una nicchia di settore direi di alto artigianato che ha ancora oggi una sua vitalità, direi a volte una vitalità di resistenza e che si pone la sfida del futuro. Ecco, quindi in che modo può resistere questa attività? In che modo può guadagnarsi anche veramente uno spazio di sopravvivenza? Come in Italia tante altre attività che una volta erano attività di artigianato diffuso, popolare sono diventate attività di artigianato diciamo appunto più settoriale ma con ancora un loro ampio mercato. E in questo senso verrà allestito anche nel chiostro una mostra mercato che vedrà coinvolte tutte le persone che si occupano ancora oggi di fare proprio il merletto. Il terzo valido motivo invece è l'apertura al futuro, lo slancio. Sono diversi i motivi che mi spingono a pensare che questo sia appunto un valido argomento penso appunto alla presenza internazionale, penso alla collaborazione col Politecnico di Milano nella sezione ECHI che è interessato e ha sviluppato un progetto con il merletto nell'ambito poi della moda e del design e penso soprattutto a quell'intelligente operazione che il Comitato del Merletto ha fatto e che quest'anno riproponiamo in maniera ancora più importante cioè la collaborazione con designer di livello internazionale quest'anno ci saranno opere di Mendini come lo scorso anno di Branzi e di Scacchetti opere a livello internazionale di designer contemporanei che trovano nel merletto un'attività che ancora può parlare la creatività contemporanea. Ecco sono tre motivi per cui abbiamo ritenuto che questa che è una tradizione siamo arrivati all'undicesima edizione possa essere riproposta e abbia ancora il valore. Io come dire invito veramente tutti non solo da Cantù ma anche da fuori a visitare questa esposizione dove troveranno veramente tanti motivi di piacere, di stupore e di bellezza.